In questo tutorial ti fornirò le informazioni utili per risolvere l'errore autenticazione speed fallita password scaduta in fase di accesso con speed ai portali della pubblica amministrazione. L'errore mostrato indica che la password speed è scaduta e deve essere aggiornata poiché è a validità 180 giorni. Per aggiornarla collegati alla pagina selfcarespeed.aruba.it con nome utente e password. A questo punto il sistema ti chiede di aggiornare la password. Segui la procedura creandone una nuova. Puoi inserirla digitandola manualmente o puoi cliccare su genera random per generare in automatico una password casuale sicura. Solo dopo l'aggiornamento della password potrai continuare ad usare la tua identità speed.